Da oggi il Consiglio regionale ha un nuovo componente. Si tratta di Gianni Lampis e dei Fratelli d'Italia che tornano all'Assemblea Sarda subentrando al Consiglio regionale di Forza Italia, Ugo Capellacci, eletto alla Camera dei Deputati. Si tratta finora dell'unico Consiglio regionale eletto in Parlamento che abbia presentato formali dimissioni. Mancano all'appello Gavino Manca del PD, Pietro Pitalis di Forza Italia e Cristian Solinas del Partito Sardo d'Azione e Lega. Le dimissioni dell'ex governatore hanno consentito al primo dei non eletti Gianni Lampis di vedere la propria nomina deliberata dalla giunta delle elezioni del Consiglio regionale. Il neoconsigliere ha giurato dopo che il Presidente dell'Assemblea Gianfranco Ganau lo ha proclamato stamattina eletto. Lampis era stato consigliere in passato per due mesi prendendo il posto di Modesto Fenu della zona franca, dichiarato decaduto dal Consiglio di Stato. A sua volta Lampis aveva dovuto lasciare l'Assemblea Sarda per un ricorso al TAR presentato e vinto da Giovanni Sata dell'UDS. Ora si attendono alle decisioni degli altri parlamentari, anche perché a breve il Consiglio regionale sarà chiamato ad esaminare importanti provvedimenti, a cominciare dalla legge urbanistica che tante fibrillazioni sta creando nel centro-sinistra. Maggioranza opposizione vogliono osservare i ranghi e anche per questo si attende un'accelerazione sul fronte della definitiva composizione dell'Assemblea Sarda, col subvento dei nuovi consiglieri al posto di quelli eletti in Parlamento.